. Voglio più soldi di Antonella Clerici, il messaggio di Costantino della Gerardesca durante Pechino Express Photo, video. E con voglio più soldi di Antonella Clerici, Costantino vince tutto. Si conferma uno dei conduttori più brillanti della TV, non solo della Rai, capace di far ridere, riflettere e gelare chi prende di mira, parliamo di Costantino della Gerardesca che nella 7 grado puntata di Pechino Express ha espresso un bel desiderio, voglio più soldi di Antonella Clerici. Contestualizziamo la richiesta, altrimenti chi non ha visto il reality on terror ad inonda mercoledì 18 ottobre, non può capire. Arrivati a Taipei i concorrenti hanno rispettato una tradizione locale, affidare al vento delle lanterne colorate il desiderio impresso sopra. Il cooper per esempio ha scritto che Dio protegga sempre Antonella e Lia, la compagna si è augurata di avere prima o poi una famiglia bellissima mentre Michele ha chiesto di far ritornare Marcello Ngarra dopo il brutto incidente. Voglio più soldi di Antonella Clerici, piocca nei commenti sul web. Costantino della Gerardesca ha confessato di voler guadagnare un giorno più di Antonella Clerici suscitando neanche a dirlo ironia, ilarità e tanti complimenti sui social. Il popolo del web lo ha da tempo eletto un mito vivente dobbiamo dire che non ci delude mai, le sue perle in disaggezza sono un regalo prezioso per gli spettatori che vogliono assistere ad uno show itinerante. . A proposito, ma quanto guadagna la conduttrice della prova del cuoco? . Pare che per il cooking show quotidiano e per gli altri programmi che segue e presenta nel corso dell'anno, Antonellina intaschi 1,5 milioni di euro. . .